Ciao a tutti, perché gli uomini fanno lovebombing e cosa puoi fare al riguardo? In questo video voglio spiegarti perché gli uomini fanno lovebombing e cosa puoi fare al riguardo. Allora, intanto diciamo questo che prima iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscrivendoti al canale attiva la campanella così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video e se vuoi ottenere delle risposte mirate alle tue domande puoi abbonarti al canale. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise mirate alle tue domande. E veniamo al tema, perché gli uomini fanno lovebombing e cosa puoi fare al riguardo? Allora, intanto il lovebombing o bombardamento d'amore è una forma di corteggiamento che usano sempre i narcisisti ma non soltanto i narcisisti. Non è che il bombardamento d'amore è l'esclusività dei narcisisti, è una forma, diciamo così, di corteggiamento usata prevalentemente dagli uomini, ma talvolta i narcisisti le usano anche loro in modalità diverse, in cui un uomo corteggia in modo eclatante una donna, no? Cosa vuol dire? Ma regala fiori, si offre di portarla in ristoranti bellissimi appena conosciuta, offre vacanze, offre regali, insomma, corteggia in questo modo. Dando, diciamo, anche materialmente, se vogliamo, facendo delle cose per questa donna. Ecco, questo, ma in modo, come dire, non dico esagerato, ma in modo, un corteggiamento come se fosse, diciamo, una persona speciale, come avesse incontrato la Madonna, fondamentalmente, no? Come fosse la donna angelicata, no? Da portare. Insomma, crea un vitello d'oro, fondamentalmente. Crea atmosfera, crea un vitello d'oro. Questo seduce, beh, diciamo che comunque a una donna lascia un po' colpito nel segno, no? Trovare un uomo che ti dedica tutte queste attenzioni. Però, 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 c'è sempre un risvolto. Che, perché lo fa? Talvolta, quando, come dire, ci sono queste manifestazioni, queste manifestazioni rivelano un, come dire, delle sorprese non tanto piacevoli. Io dico sempre di diffidare degli uomini che fanno love bombing, per un motivo o per l'altro, ma la cosa che devi fare è diffidare. Perché possono ritrovarsi delle sorprese amare. Allora, vediamo, cerchiamo di capire quali sono le motivazioni per cui un uomo fa love bombing. Beh, il primo è l'insicurezza. C'è un uomo che non è sicuro di sé, che pensa di non poter di suo piacere. Perché se io penso di poter piacere di mio, cioè per come sono, che motivo ho di fare love bombing? Cioè, presento me stesso, sono sicuro di piacere e se ti vado bene è così, se non ti vado bene, amen, va bene, avanti un'altra, come dire. Perché devo esibire delle cose? Certo, uno può farlo per diversi motivi, però di fatto, per quale motivo, diciamo, dare qualcosa, senza aver ricevuto qualche cosa in una relazione? Dici, ma lo fa perché è innamorato? Ma l'amore si costruisce, diciamo, gradualmente, non è un qualcosa che nasce in modo improvviso. Se nasce in modo improvviso, più che amore è una fregatura, diciamo questo. Quindi, una motivazione potrebbe essere l'insicurezza. Quella di un uomo sfigato, che non sa, che crede perlomeno di non piacere, non ha una buona percezione di se stesso, pensa di essere uno che non è in grado di conquistare, che non è in grado di sedurre di suo, e allora, per conquistare, per sedurre, cerchi in qualche modo di manifestare delle cose. Ma, quindi, questo genera semplicemente, come possiamo dire, un... cioè, accettare di stare con una persona di questo tipo, vuol dire che lui sta facendo questo soltanto perché si sente insicuro. Nel momento in cui voi sarete assieme, si sentirà sicuro e smetterà di farlo. E questa è la cosa... e ti troverai con un uomo insicuro, che però è sicuro con te, ma inizialmente fa delle cose che poi non farà. Le fa soltanto a fini di colmare un po' la sua insicurezza. Un'altra motivazione è quella che molti uomini utilizzano questo metodo per, di fatto, poi portarsi a letto una donna. Non è che potrebbero portarsi a letto anche diversamente, ovviamente. Ma, così, probabilmente hanno visto che è più rapida la cosa, non presentano magari altre caratteristiche attrattive, vogliono velocizzare il tutto e quindi utilizzano questo sistema. buttano un po' di fumo negli occhi, fondamentalmente, ma il loro obiettivo è quello di avere un incontro, un incontro sessuale. Altra motivazione, ed è quella che utilizzano soprattutto gli uomini che hanno una moglie, ad esempio, cioè, se tu fai l'amante, l'amante lo fa per togliere un po' il senso di colpa, no? Nel senso che se tu stai con un amante, talvolta poi ci sono donne che stanno pure con gli amanti senza ricevere nulla in cambio, se non il parcheggio del cimitero a giovedì sera. Però, molti, invece, per, diciamo, abbattere un po' il senso di colpa e darti un minimo di soddisfazione e farti accettare il fatto che tu sarai sempre la seconda e non la prima, ti danno un contentino, fondamentalmente. Questa è un'altra motivazione per cui gli uomini fanno love bombing. per tenerti. Questo vale prevalentemente per gli uomini sposati. Quindi, se sei l'amante di un uomo sposato, non è che lui, se ti dà, ti offre delle cose, lo fa perché ti ama. Assolutamente no, tu credi questo. Lo fa semplicemente per tenerti e per farti digerire il boccone amaro del fatto che tu sei sempre la seconda, del fatto che non lascerà la moglie, del fatto che tu possa, come dire, accettare le sue scuse e credere alla bugia, perché bugia si tratta, che ti ama. Ecco, questo è il motivo fondamentale per cui un uomo fa love bombing, diciamo così. e poi c'è il quarto motivo che invece si tratta di un narcisista. Oppure potrebbe essere uno che lo fa per strategia, ma non è un narcisista. Però il modus operandi poi è lo stesso. Ti do, facendo love bombing, ma poi ti tolgo. Ed è quando ti tolgo che smetto di farlo, che tu vai in palla. il narcisista ti toglie facendoti vivere pure un senso di colpa. Quindi tu entri in stato di profonda frustrazione perché pensi che è per colpa tua che lui non manifesta, non fa più niente. Ecco, questo è quello che fa spesso il narcisista. E questo è una cosa è una cosa fondamentale, insomma. Quindi, dovunque lo rigiri, diciamo, sto love bombing, non ti porto da nessuna parte. Gli uomini che ti fanno love, diffida sempre degli uomini che ti fanno love bombing perché nel migliore delle ipotesi sono delle persone insicure. Nella peggiore sono dei narcisisti che ti generano poi profondi stati di sofferenza, sensi di colpa, ti denigreranno e ti lasceranno. Bene, lascia nei commenti qua sotto quello che pensi, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco attivando la campanella così riceverai la notifica ai nuovi video, iscriviti al canale e se vuoi delle risposte precise alle tue domande abbonati al canale, abbonandoti al canale potrai partecipare ad apposite live mirate dove risponderò in diretta alle tue domande personali. Ciao a tutti!